Buongiorno carissimi e benvenuti e bentornati anche. Vengo da una città. Adesso vedremo il verbo venire con questa parola da. Per esempio se io dico vengo dalla Spagna, vengo dall'Argentina, vengo dagli USA, cioè dagli Stati Uniti, vengo dal Perù, vengo dal Brasile, mi rendo conto che c'è qualcosa di molto particolare, cioè vengo da e il paese. In questo caso ci sono per esempio la Spagna, quindi vengo da la Spagna, cioè vengo da. Vengo dalla Spagna, vengo da l'Argentina, cioè vengo dall'Argentina, vengo da gli Stati Uniti, quindi vengo dagli Stati Uniti, vengo da il Perù, quindi vengo dal Perù. E così via discorrendo. Pertanto posso dedurre che devo dire vengo da e aggiungere l'articolo. Vengo dalla Spagna, vengo dalla Germania, vengo dalla Cina, vengo dal Perù, vengo dal Brasile, vengo dal Messico. Ma se io invece devo dire questo, vengo da e la città, devo dire vengo da Madrid, vengo da Buenos Aires, vengo da Sao Paolo, vengo da Lima e così via discorrendo. Il verbo venire è il verbo venire, vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. Iscriviti sul canale se ti è piaciuto questo video e attiva la campanella. Ci sentiamo presto, ti saluto. Grazie. 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 Grazie.